Dato che noi deboli le vostre, leggi avete fatto e servi noi, quelle leggi non le obbediremo, dato che servire, dato che servire non ci garba più, dato che voi ora minacciate, con canone e con focili, noi, che crediamo noi poi da vestire di me, non c'è ciò che morire, dato che noi altri avremo fame, se ci nasce bene. Buongiorno, oggi ci occupiamo della stampa nei giorni della Comune, introdotti dalla canzone di Paolo Pietrangeli e Giovanna Marini. Dunque, stiamo dicendo che la stampa nei giorni della Comune è stato uno degli elementi determinanti all'interno dell'insurrezione parigina. Quando Jean-Baptiste Clément, giornalista socialista, scrive il testo della canzone L'Étane des Sérises, il famoso tempo delle ciliegie, era il 1867, quindi quattro anni prima della Comune. I suoi articoli contro l'imperatore costringono Clément prima alla fuga in Belgio, poi a una condanna in prigione, ma la sua canzone divenne famosissima, soprattutto nella versione cantata dal tenore Antoine Renard, tanto da rappresentare il leitmotif dell'insurrezione parigina del 1871. Tutti cantavano questa canzone nelle strade. Lo stesso Clément è entrato nella Guardia Nazionale Repubblicana dopo la disfatta di Sedan e la fine dell'imperatore Napoleone III, lo stesso Clément parteciperà alla sollevazione popolare e diverrà membro del Consiglio della Comune e anche redattore del giornale Le Cris du Peuple di Jules Vallès, Il grido del popolo. Nel frattempo, con le elezioni legislative dell'8 febbraio del 1871 per rinnovare l'Assemblea nazionale, i francesi, che hanno naturalmente il diritto di voto, scelgono in grande maggioranza la conservazione. Scelgono ovviamente la paura del nuovo, il ritorno al centralismo retiro filomonarchico. Pensate che vengono eletti circa 400 monarchici su 675 seggi. In tutto 675 seggi e ben 400 occupati ancora da monarchici. Ma qui si verifica la rottura. La borghesia, impaurita dalle forti istanze per una repubblica socialista e dalla sconfitta anche con i prussiani, sceglie il tradimento, come sappiamo. Il proletariato, il sottoproletariato, gli strati piccoloborghesi radicali e urbanizzati, scelgono invece la lotta per l'emancipazione. Oggi seguiremo passo passo i mesi di questo crescendo politico e sociale che porterà all'esplosione insurrezionale della comune e alla sua disfatta sanguinosa. C'erano già stati importanti episodi a Parigi che facevano presagire il clima di scontro. Il 5 gennaio, per esempio, sempre nel 1871, il manifesto rosso del Comitato Repubblicano dei 20 arrondissements, gli arrondissements sono i quartieri parigini, il Comitato Repubblicano denuncia il tradimento del governo del 4 settembre e reclama la requisizione generale, il razionamento gratuito, l'attacco in massa, terminando con l'argo al popolo, l'argo alla comune. Il 22 gennaio, quindi già si parlava della comune, il 22 gennaio c'era stata una fucilata contro una manifestazione della Guardia Nazionale, manifestazione che era stata indetta nel decimo, tredicesimo e quattrodicesimo arrondissement insieme. La manifestazione si era svolta davanti al sagrato del comune parigino, davanti all'Hotel de Ville. Il 3 marzo, poi, si costituisce la Federazione Repubblicana della Guardia Nazionale, formata tutta da elementi popolari. Il 18 marzo, data importante e fatidica, è il momento di massima tensione tra i governativi e il popolo parigino. Il popolo parigino si rifiuta di consegnare i cannoni, pagati col denaro del popolo, urleranno le donne e gli uomini schierati a difesa degli obici. A Montmartre, come sappiamo. Il governo reazionario de Adolstier fugge a Versailles, protetto dall'esercito regolare. Il popolo di Parigi è padrone della piazza. Fioriscono subito decine di giornali e riviste, che informano i cittadini e incitano ad andare avanti con le riforme. Fra i tanti giornali, i più letti appaiono i quotidiani, pensate quotidiani già allora, l'Ecris du Peuple, fondato da Jules Vallès, come abbiamo già detto, fondato il 22 febbraio del 71. E un altro giornale importantissimo, che esce il 6 marzo del 1871 ed arriva a tirare fino a 70.000 copie al giorno. C'è anche da dire che sempre più spesso si assiste, strada per strada, nel caffè, a quella che è chiamata la lettura collettiva, seguita dall'inevitabile dibattito, in piazza, nel caffè, dovunque sia possibile. Il giornale quotidiano diventa così la vera voce del popolo parigino in armi, diventa uno strumento collettivo indispensabile. Il 20 marzo sarà lo stesso comitato centrale della Federazione Repubblicana della Guardia Nazionale, che poi indirà le elezioni del 26 e proclamerà la comune il 28, sarà la stessa Federazione Repubblicana della Guardia Nazionale, e dicevamo, a far stampare un foglio giornaliero chiamato le giornale ufficiel della Repubblica Francaise, diviso in due parti. Una, in alto, è chiamata ufficiale, la parte ufficiale, e riporta tutti gli atti del comitato centrale, i decreti, gli arresti effettuati, le deliberazioni delle commissioni della comune. Un'altra parte, invece, del giornale, in basso, è chiamata non ufficiale e consiste nella trascrizione delle sedute del Consiglio della Comune, nelle rubriche Notizie dall'estero, Fatti diversi, Varie, Necrologi, Rapporti militari e altro. Dal 30 marzo, questo foglio si chiamerà, più precisamente, le giornale ufficiel de la Commune de Paris e riuscirà ad essere presente fra i rivoltosi fino al 24 maggio del 1871. Sappiamo che la Comune cadrà il 28 di maggio, quindi fino a quattro giorni prima il giornale e questa testata è il giornale ufficiale della Comune. Il primo numero del giornale ufficiale appare quindi, come abbiamo già detto, il lunedì 20 marzo e riporta una dichiarazione di intenti dai membri del Comitato centrale e un appello agli abitanti della città. L'appello dice, tra l'altro, lo Stato d'assedio è tolto. Il popolo di Parigi è convocato nelle sue sezioni per tenere le proprie elezioni comunali. La sicurezza di tutti i cittadini è assicurata dal concorso della Guardia Nazionale. Tra le firme che compaiono sotto l'appello, sono 25 firme in tutto, c'è quella di Eugène Varlin, delegato fin dal 1864 presso l'Associazione Internazionale dei Lavoratori, amico fraterno di Marx e di Engels. Varlin sappiamo che cadrà poi durante la Settimana di Sangue. Il 21 marzo il giornale esce con una dichiarazione del Comitato centrale sui fatti che hanno portato all'uccisione dei due generali, Leconte e Clement Thomas, massacrati dall'ira popolare. Con una chiara presa di posizione, invece, il 22 marzo, il Comitato centrale mette in guardia il popolo parigino dalla costante controinformazione reazionaria attuata dai giornali borghesi e da gruppi di oratori disseminati in tutta la città che tentano di denigrare la rappresentanza eletto in seno alla Guardia Nazionale e che sede ora all'Hotel de Ville, alla sede comunale. Giovedì 23 marzo il giornale ufficiale pubblica il testo del bel manifesto su Fondo Rosso affisso per strada dal sindacato dei Tagliatori di Pietre che chiama i propri affiliati all'unità di lotta col popolo per il pubblico interesse e contro chi nulla produce. Il 24 marzo il Comitato centrale chiama i cittadini alle elezioni per la domenica seguente respingendo i tentativi dei vecchi apparati amministrativi di boicottare le giuste aspirazioni alla nuova rappresentanza e rispondendo con la forza alla tentata corruzione di cittadini parigini da parte di elementi bonapartisti ed orleanisti. Mentre il giornale ufficiale dedica l'uscita del sabato 25 marzo alla ricostruzione della manifestazione borghese del 22 in piazza Vandome che ha causato l'assalto contro uomini della Guardia Nazionale con morti e feriti e con il numero è apparso il 26 marzo che il popolo di Parigi è chiamato al fondamentale appuntamento delle elezioni comunali. I seggi sono aperti dalle 8 del mattino fino a mezzanotte. Siamo al 26 marzo. Il giornale del lunedì 27 riporta ancora l'appello al voto del giorno prima apparso su tutti i muri della città e raccomanda di eleggere persone come voi che vivono come voi che soffrono come voi. Mattia D28 compaiono sul giornale ufficiale i risultati delle elezioni comunali divisi per arrondissement. Il 29 marzo i delegati dell'Algeria esprimono il loro sostegno alla comune unico mezzo per giungere la libertà e la giusta indipendenza. Da notare i delegati dell'Algeria perché l'Algeria sappiamo in particolare nella Cabilia stava sul piede di guerra contro l'occupante colonialista francese e anche loro avevano fondato una comune che si era scontrata e si scontrava in modo impari in quei giorni contro l'esercito francese. Il giorno dopo sulle pagine del giornale l'entusiasmo per la manifestazione di 200.000 persone a sostegno dalla comune della Repubblica e della Guardia Nazionale. Il grido è stato uno solo morire per la patria il prossimo obiettivo la Repubblica Universale. E beh sono già degli obiettivi piuttosto importanti. Con il numero apparso il 31 marzo c'è il riconoscimento della bandiera rossa come simbolo della comune. Viene ricordato che Lafayette nel 1789 aveva proposto ed ottenuto che il bianco simbolo reale si coniugasse col blu dei borghesi e con lo rosso dei lavoratori per giungere ad una sintesi nazionale di unità interclassista Lafayette. Nuovamente nel 1848 la bandiera rossa era assurda a simbolo della lotta del popolo con le rivolte del 1848 finché nel 1871 la bandiera rossa va a consacrare e simboleggiare la nuova era del potere dei lavoratori. Sabato 1 aprile sul giornale ufficiale appare l'avviso alla cittadinanza non scrivete più lettere al presidente della comune non esiste tale carica scrivete piuttosto ai membri della comune Hotel Deville La cerimonia di insediamento degli eletti della comune riporta il giornale come il giornale naturalmente della comune riporta la domenica del 2 aprile che si è svolta il sabato con il bel discorso pronunciato dal decano il cittadino Charles-Victor Besley si è svolta una cerimonia proprio molto sentita che è quella appunto dell'insediamento degli eletti il 3 aprile giorno dopo il giornale ufficiale comunica al popolo parigino che dall'esterno e di modo inatteso gli zuavi pontifici e la polizia imperiale hanno attaccato la cittadinanza inerme della pacifica negli sobborgo parigino come sappiamo provocando morti e feriti lo stesso lunedì 3 si decreta la separazione della chiesa dallo stato la soppressione delle finanze ecclesiastiche la nazionalizzazione dei beni della chiesa previa inchiesta approfondita il giorno dopo il 4 aprile il giornale dedica spazi agli attacchi militari dell'esercito di Versailles e ai controattacchi della guardia nazionale repubblicana il 5 aprile è riportata l'avvenuta apertura di un corso per ginnasti presso l'ottavo arrondissement al fine di preparare i giovani tra i 16 e i 20 anni al movimento fisico il 6 aprile la comune avverta attraverso il suo giornale che il nemico Versaillesi cattura uomini della guardia nazionale e li passa per le armi senza tanti complimenti e dice il giornale a questo comportamento disumano ed incivile risponderemo occhio per occhio e dente per dente l'uscita del 7 aprile è dedicata a fatti diversi uno scontro fra treni la panuria di gas per l'illuminazione il servizio funebre per cittadini uccisi dalla controrevoluzione un chiarimento sul monte dei pegni l'8 aprile si riporta il decreto che abolisce il grado di generale della guardia nazionale per motivi di organizzazione democratica di questo corpo il cittadino Ladislav Domdowski famoso Dombrowski che era polacco aveva partecipato alla rivolta in Polonia qualche anno prima e era emigrato in Francia e si era trovato appunto durante la comune di Parigi a essere uno dei cittadini punto di riferimento e tanto che venne chiamato comandante della piazza di Parigi l'odiosa ghigliottina lo stesso giorno l'8 aprile la macchina tremenda tanto utilizzata dal potere viene bruciata ai piedi della statua di Voltaire tra ali di folla festante domenica 9 aprile il giornale della comune ha dita Marguerite Gander come eroina ed esempio per tutti i combattenti e i cittadini in quanto per tutta una giornata incurante del fuoco della mitraglia nemica ha dedicato un indifesso lavoro alla cura dei comunali di feriti in totale assenza di medici lunedì 10 è pubblicato un decreto sul riconoscimento e le informazioni riguardanti i morti della guardia nazionale e il loro interramento l'11 aprile si decreta un aiuto economico continuativo per le vedove e per i figli delle persone morte in difesa della comune lo stesso giorno appare sul giornale un appello di cittadini al popolo parigino per organizzarsi difendere la città erigere barricate armarsi il 12 aprile sono pubblicati i dispacci di scontri e scaramucce a Ventre e Issy alle porte della città il nemico è rispinto il 13 è riportato il decreto in un unico articolo che annuncia la demolizione della colonna Van Dome vero affronto alla fraternità umana e simbolo di barbare militarista il pittore Gustave Courbet è incaricato di occuparsi della riapertura dei musei parigini e dell'esposizione annuale sui Champs-Élysées il 14 aprile è pubblicato il decreto della comune adottato il giorno prima e che prevede accertata l'insufficienza del servizio medico nei battaglioni impegnati negli scontri prevede la formazione di compagnie d'ambulanza corredate dai dottori infermieri bariglieri e mezzi tecnici un singolare articolo nello stesso numero consacrato alla bontà del vino presa a piccole dosi in battaglia ma ancora meglio del vino il caffè riesce nell'intento di fortificare il combattente così si dice nel giornale sabato 15 aprile il giornale ufficiale riporta la notizia della riunione tra artisti comunardi pensate più di 400 artisti si rivedono insieme la riunione presiduta da Courbet è tendente alla creazione di una federazione degli artisti repubblicani la domenica 16 aprile dalle colonne dell'organo dei comunardi è lanciata la campagna per l'istruzione primaria popolare aperta in tutti e venti gli arrondismanti della città ugualmente si dà notizia di attacchi versagliesi a Vauve e a Châtillon il 17 si riporta il decreto della comune con cui visto l'abbandono di molte aziende e laboratori da parte del padronato con la conseguente perdita di molti posti di lavoro si incarica dalle camere sindacali di effettuare un monitoraggio delle condizioni di tali officine al fine di valutarne la capacità produttiva ed il possibile rilancio anche dietro a pagamento di indennità ai padroni che la richiedano mentre lo spazio giornalistico del 18 aprile è dedicato ad alcuni rapporti militari da Vauve e Issy il giorno dopo la comune decide la chiusura di giornali borghesi apertamente bellicisti e calumnosi nei riguardi dei difensori di Parigi parimenti si favorisce alla lettura di giornali e libri naturalmente quelli utili alla causa repubblicana anche negli ospedali nelle sale di lettura pubbliche il 20 compaiono i nomi degli eletti nelle votazioni suppletive del 16 passato tali elezioni si sono rese necessarie in quanto alcuni membri del comitato centrale della comune si sono dati alla fuga il 21 aprile compare sul giornale il decreto che abolisce il lavoro notturno nei forni per il pane i rapporti militari parlano di tiri doppici da parte dei versagliesi a Asnier e Neuilly con molti morti e feriti il 22 è riportata alla discussione in seno al comitato centrale della comune riguardante la divisione in commissione e il nome dei facenti parte nello stesso numero del giornale sono elencate le materie che vengono impartite nella scuola comunale di Faubour Saint-Martin lettura scrittura grammatica aritmetica sistema metrico primi elementi di geometria geografia storia della francia morale razionale musica vocale disegno artistico ed industriale scuola comunale ripeto domenica 23 aprile il foglio quotidiano della comune scrive di scontri ai forti di Mont Rouge Ventre e Issy il giorno dopo è riportato il tiro da parte di obici versagliesi a danno di cittadini inermi che passano in mezzo alla strada il 25 aprile la comune decreta che in seguito ai ripetuti bombardamenti delle truppe di Versailles ai danni di cittadini varigini tutte le case vuote vengano requisite e messe a disposizione di quelle famiglie che hanno perso la propria abitazione il 26 aprile la comune annuncia che grazie al buon lavoro di alcuni delegati i prestiti di beni alimentari come burro carne e altri beni sono diminuiti il 27 il giornale riporta notizia di uno sconto militare al Vigiuif e della fraterna accoglienza ad una nutrita delegazione della franco-massoneria giunta in sostegno dei comunardi il 28 si dà conto della commissione di inchiesta sul massacro di quattro guardie nazionali da parte di un ufficiale versagliese e della richiesta da parte di taluni rappresentanti al comitato centrale di accelerare l'iter per la demolizione della colonna Vandome il 29 si riporta il cattivo e dispendioso per la comune uso di alcuni ufficiali che mirano ad appropriarsi di spade e galloni domenica 30 aprile gran parte del giornale ufficiale è dedicata all'incontro tra i comunardi in festa e i franco-massoni in visita fraterna il 1 maggio si comunica che il cittadino Rossell è nominato delegato alla guerra mentre il precedente il cittadino Clusere viene arrestato per negligenza lo stesso giorno si decreta l'abolizione dei Monti di Pietà il 2 maggio è decretata la creazione del comitato di salute pubblica formato da 5 membri Arnaud Meillet Ranvier Pia e Gerardin il comitato ha pieni poteri su tutte le commissioni e risponde unicamente alla comune gli attacchi militari dei Versagliesi Aissi Asnière Montrouge Bissetre si susseguono il 3 maggio compare il rapporto della riunione che ha decretato alla costituzione del comitato di salute pubblica nel giornale del 4 siamo al 4 maggio sono riportate notizie sugli scontri militari a Asnière Negli Ventre Issi Montrouge Bissetre il 5 si dà conto dell'apertura del club della rivoluzione sociale nella chiesa di Saint-Michel a Batignol alla presenza di numerosi membri del comitato centrale della comune di tanti tanti cittadini tra cui numerosissime le donne il 6 maggio sabato il delegato alla guerra nomina 5 comandanti militari incaricati di organizzare la difesa di altrettanti quartieri il 7 maggio è riportato un proclama dei delegati dell'undicesimo arrondissement ai propri cittadini e alla guardia nazionale con la constatazione che ogni immagine di negoziato o di tregua con i versagliesi è caduto resta solo la difesa a oltranza con l'obiettivo della vittoria dei propri ideali lunedì 8 maggio il giornale riporta il manifesto redatto dal comitato centrale dell'unione delle donne per la difesa di Parigi con cui si chiamano i cittadini alla risposta organizzata e militare alle profette di resa e conciliazione da parte dei versagliesi il manifesto termina con vive la republique sociale universelle vive le travaglia vive la commune viene anche citata l'insurrezione di Narbon nel sud dove l'esercito ha disfatto la resistenza popolare grazie all'impiego di truppe speciali i turchi che si sono date anche a saccheggi a saccheggi dentro le case pensate il 9 maggio si dà conto della seduta del comitato di salute pubblica che ha deciso a maggioranza di non pubblicizzare i propri lavori il 10 maggio la comune decide di nominare una commissione per il cambiamento dei nomi di tutte le sale pubbliche che ancora riportano nomi reazionari l'11 maggio si riporta il decreto del comitato di salute pubblica con cui ai manifesti provocatori di tier che chiedono dai muri di parigi il tradimento e negano i bombardamenti sulla città si risponderà con la requisizione dei beni dello stesso tier e con la demolizione della sua casa il 12 viene raccontato sul giornale il grande concetto tenuto all'étudierie in onore dei feriti della guardia nazionale il 13 il delegato civile alla guerra delle cluse chiede un riconoscimento ufficiale al 128esimo battaglione della guardia nazionale che ha contrastato vittoresamente i versagliesi prontamente la comune concede onore al merito il giornale ufficiale riporta il 14 maggio notizia di eroici combattimenti ai si il 15 il comitato di salute pubblica ordina che tutti coloro che non portano una carta di identità validata dalla comune siano arrestati è molto forte infatti la presenza di infiltrate del governo di Thierry in città barricate sono costruite in ogni parte di Parigi il 16 sono chiamati a dare il contributo alla difesa ai muratori e tutti gli esperti in armi fucili e polveri da sparo compare lo stesso giorno un appello alle città di Francia a unirsi nella lotta se Parigi soccomberà c'è scritto sarà perché non è stata aiutata dalle sorelle sappiamo che il motivo è un altro e che le truppe di Thierry hanno isolato Parigi andando prima ad abbattere le comuni tutte le comuni che si erano create in Francia nelle altre città dopodiché si è gettato con le sue armate direttamente contro Parigi il 17 maggio è riportato il glorioso episodio avvenuto il giorno precedente l'abbattimento della colonna Vendôme davanti a una folla compatta e seria il 18 viene menzionata l'esplosione dolosa che ha distrutto l'armeria dell'Avenue Trapp provocando la morte di circa 100 cittadini già presi i quattro colpevoli agenti dei Versagliesi il 19 i membri del comitato centrale decretano un giro di vite contro la prostituzione nelle strade giudicata demoralizzante per i resistenti e contro l'ubriachezza soprattutto tra le guardie nazionali il 20 maggio ci si rivolge agli artisti lirici ai cantanti agli strumentisti agli attori affinché si uniscano in una federazione insieme alla comune il comitato centrale respinge poi i sospetti di cattivi rapporti con l'insieme della comune il comitato di salute pubblica il 21 chiama tutti a reprimere la dilagante corruzione si susseguono i rapporti militari da Montrouge anche da Neuilly da Vanve con notizie di scontri il 22 il delegato alla guerra dell'Ecluse e il comitato di salute pubblica chiamano il popolo alla guerra si tratta di vincere o morire il 23 le notizie scarseggiano i cittadini sono occupati la difesa e al combattimento strada per strada il 24 maggio esce per l'ultima volta il giornale ufficiale si riportano episodi eroici negli scontri sulle barricate erette anche dai bambini difese dai padri e dalle madri grazie per l'attenzione e a risentirci alla prossima puntata dato che noi deboli le vostre leggi avete fatto e servi noi quelle leggi non le obbediremo dato che servire dato che servire non ci garba più Dato che voi ora minacciate, con cannone e con fucili noi, degrediamo d'ora e poi da vestire e vivere un peggio che volire. Dato che noi altri avremo fame, se ci lasceremo derubare, verificheremo che tra il pane buono, che ci manche noi, che ci manche noi, solo un vetro sta. Dato che voi ora minacciate, con cannone e con fucili noi, degrediamo d'ora e poi da vestire e vivere un peggio che morire. Dato che laggiù ci sono case, mentre senza tempo ci lasciate, degrediamo d'ora e poi da vestire e vivere un peggio che volire. Dato che voi ora minacciate, con cannone e con fucili noi, degrediamo d'ora e poi da vestire e vivere un peggio che morire. Dato che non può riuscirvi mai, un salario buono di pagarselo, d'ora e poi da vestire e vivere un peggio che volire. Dato che noi basta, dato che a noi basta, mentre con voi no. Dato che voi ora minacciate, con cannone e con fucili noi, degrediamo d'ora e poi da vestire e vivere un peggio che morire. Dato che ai governi che promettono, sempre tanto, non si crede più. Dato che ai governi che promettono, sempre tanto, non si crede più. Dato che con queste mani, una vita vera, una vita vera ci si costruirà. Dato che voi ora minacciate, con cannone e con fucili noi, degrediamo d'ora e poi da vestire e vivere un peggio che morire. Dato che voi ora minacciate, con cannone e con cannone e con fucili noi si volterà. Dato che voi ora minacciate, con cannone e con fucili noi si volterà.